Immagini di allenamento in casa Crotone. La notizia del giorno è quella relativa al fatto che il tecnico Massimo Drago, per la gara con il Catania, potrà pescare a piene mani dalla rosa a sua disposizione. A cominciare dal centrocampista camerunense Matute e dal talentuoso fantasista romeno Adrian Stoian, 24enne, già al Chievo Verona. Per quest'ultimo, in particolare, si tratterà dell'esordio in rosso-blu. In casa Catania, Dario Marcolin non lo dice, ma è chiaro che lunedì, contro il Crotone al Massimino, difficilmente cambierà formazione. Tutti disponibili, compreso il difensore centrale Schiavi, pronto a riprendersi la maglia da titolare, che non avrebbe potuto indossare a Modena. In pratica, la completa disponibilità dell'esterno d'attacco Martigno e quella del rigenerato Lucas Castro non faranno altro che allungare la panchina e aumentare la cifra tecnica. Ma difficilmente Marcolin rischierà di alterare gli equilibri di un gruppo e di una formazione che sembra aver già trovato compattezza. Panchina del Catania dunque completata dal portiere Terracciano, dai difensori Capuano e Sauro e dai centrocampisti Krapek, Scalante e Auger, oltre che dell'attaccante Barisic. Insomma, Marcolin e il suo vice Annoni potranno lavorare a maniche rimboccate, potendo contare soprattutto sulla panchina lunga. Discreta la prevendita per il posticipo in programma lunedì sera, arbitrerà Sacchi di Macerata.